Mi rendo conto che è il momento di porre le distanze, io non ho paura, non voglio avere paura, non ho paura, ma soprattutto io non sono ricattabile, quindi tutte queste imposizioni, tutti questi divieti, tutti questi ricatti, tutti questi compromessi, tutte queste concessioni in realtà sono miei diritti, sono diritti miei di nascita e nessuno me li può concedere o me li può centellinare o me li può dare a condizione che voi non siete nessuno per me, io non vi riconosco, non riconosco il vostro potere, non riconosco la vostra autorità che deriva da un abuso. Mi riprendo tutto il potere che vi ho dato e che mi avete rubato in passato, mi riprendo tutta l'autorità che mi appartiene del mio di nascita e recido ogni legame con voi, io sono mio, la mia anima è immortale, mi volete affamare? La mia anima è immortale, volete bloccare il mio corpo fisico? La mia anima è immortale, volete ricattarmi togliendomi in questo, quella cosa materiale? La mia anima è immortale, io non tollererò di essere ulteriormente costretto, ulteriormente obbligato, ulteriormente limitato o inibito nell'esercizio dei miei diritti fondamentali. Voi non siete i padroni di nulla, voi siete delle creature parassite, il cui pseudo potere deriva da un inganno. Crollerete, cadrete, e il fragore della vostra caduta vi annienterà nel passato, nel presente e nel futuro. Ritornate da dove siete venuti, voi non esistete e non avete potere su questo e sugli altri piani, se aveste il coraggio di farvi vedere così come veramente siete. Ci sarebbe solo da ridere.